Aria, aria e pulita Tutti a lezione adesso, il banco è pronto, prendete il foglio, prendete la penna, attenzione perché alla lavagna virtuale compare il professor Fortuna, eccolo qua, buongiorno Buongiorno Simona, eccoci qui Il nostro economista di fiducia Allora, andiamo subito a lezione di tassi, perché c'è una, aspettavo proprio lei per spiegare un attimo che cosa succede, faccio vedere l'apertura, una delle aperture del sole 24 ore di oggi Che ci fa vedere, insomma, questa giornata dei mercati, Tokyo che chiude in rialzo più 1,93 dopo il crollo di ieri E poi c'è Pechino, eccola qua la notizia che io le voglio fare spiegare Pechino taglia anche i tassi dei mutui in esseri La banca centrale limita di 30 punti questo tasso, che è necessario ridurre i mutui entro fine ottobre Con l'indice PMI ancora sotto quota 50 Adesso è troppo tecnico, però ci faccia capire un attimo Perché qui siamo tutti a guardare anche la storia dei mutui E la Fed, la banca centrale europea, Pechino Come sono collegate, professor Fortuna, e che cosa significa? Beh, le decisioni delle banche centrali sono collegate Perché l'economia globale si legge proprio su questa politica dei tassi Che viene portata avanti dalle banche centrali in primo luogo dalla Fed E poi da BCE per quanto riguarda l'Europa E poi c'è la Cina, la Cina è un interlocutore di lusso dal quale non si può prescindere La Cina, dopo aver corso e creato ricchezza abbondante fino ad alcuni anni fa Con un PIL che cresceva all'anno a due cifre, più del 10% Anche la Cina ha conosciuto un ridimensionamento Per cui adesso corre molto meno, intorno al 5% Sempre magari in modo superiore rispetto alla media globale Che si aggira intorno al 3% di crescita Però è una crescita bassa per la Cina Quindi la Cina ha questo problema Come può rimediare? Così come gli altri Stati Cioè abbassando i tassi Abbassando i tassi delle banche centrali Ma in Cina non basta Perché come lei ha letto nel titolo E come succede del resto anche da noi Sono i tassi sui mutui esistenti che preoccupano E la crisi del mercato immobiliare Che abbiamo visto negli ultimi anni Ha colpito alcune grandi imprese del settore Anche in Cina E quindi una politica di immissione di liquidità sui mercati E al tempo stesso di aiuto alle imprese Questo sta facendo la Cina E la borsa cinese Shanghai e Schengen Sono due borse cinesi fondamentali per la Cina Non tanto a livello globale Non come New York Ovviamente con i suoi listini Il Dow Jones, il Nasdaq Però comunque sono borse importanti Per quanto riguarda l'Asia E sono cresciute in una settimana In modo notevolissimo Proprio per effetto di questo cambiamento di lotta Della politica cinese Che vuol rilanciare la creazione di ricchezza E quindi l'aumento del PIL C'è una domanda Le faccio parlare Professor Porfortuna di extra profitti Oggetto in questo momento assolutamente attenzionato Visto la manovra in divenire E si passerà anche attraverso questo passaggio Su Corriere della Sera C'è questo articolo Credito al 14% Costi record sul risparmio Perché le banche italiane sono le più care del mondo Ma tassarle di più non è la cura Un prelievo straordinario Radicherebbe gli abusi di mercato Se ci sono creando più problemi Di quanti ne risolverebbe Allora le banche italiane Dopo alcuni anni di difficoltà Oggi si trovano in una condizione Nettamente migliore Perché hanno rafforzato il loro patrimonio E quindi il sistema bancario italiano È un sistema E lo stiamo vedendo ad esempio Da quell'operazione Che Unicredit sta tentando Tentando E attenzione Perché non è detto che riesca Di acquisizione della Commerce Bank Che è la seconda banca tedesca Un po' difficile che si faccia mangiare Da una banca italiana Però vedremo come andrà a finire E semmai un'altra volta Ne parliamo qualche minuto Anche con lei Quindi le banche però Cosa hanno fatto? Hanno aumentato i loro tassi A dismisura E hanno tenuto fermi I tassi Che corrispondono ai clienti Sul denaro Che i clienti depositano Questo è il gioco Che hanno fatto La cosiddetta forbice Si è ampliata molto Negli ultimi due anni Per effetto dell'inflazione E per effetto Dell'aumento Del tasso Del riferimento Della Banca Centrale Europea Che come lei ricorda Simone Era arrivata al 4% Adesso è diminuito Di mezzo punto Ed è al 3,50 Perché si sono alzati i tassi Per combattere l'inflazione Ci siamo riusciti? Beh direi di sì E poi magari Tra un momento Commentiamo insieme Anche il discorso Dell'inflazione Sono già pronta Vede che lei Io e lei Siamo diventati telepatici Io ho già L'ho già anticipata E lì davanti ai miei occhi Il dato sull'inflazione Perché ieri sono usciti Lei sta facendo bene A ricordarlo I dati dell'Istat Che ci dicono Lo vediamo in un articolo Del Sole 24 ore Proprio di ieri Che a settembre L'indice dei prezzi Cala dello 0,2% Eccolo qua La nota negativa Ma accelera Il carrello Della spesa L'inflazione Scende a meno 0,7% Su base anno E livello più basso Registrato Da inizio dell'anno Allora lei Professor Fortuna Ci deve spiegare Però una cosa Noi adesso Diamo dei dati positivi L'inflazione scende E finalmente Abbiamo visto Quanto era salita Soprattutto Nell'ultimo anno E adesso Che diciamo Finalmente L'inflazione scende Qual è il risultato Che sale il carrello Della spesa Ma mi scusi Le pensioni E gli stipendi Non è che sono aumentati Sono sempre quelli Allora Cerchiamo di farci capire Intanto una premessa Perché è fondamentale La ripeto sempre Anche quando Sono con lei È vero Che l'inflazione Sta tornando A livelli Sotto il 2% In Italia Già da alcuni mesi Questo avviene Abbiamo uno 0,7 Poi però Sul carrello Della spesa Cioè L'insieme Dei beni necessari Per la sopravvivenza Quelli indispensabili Il carrello Della spesa Aumenta Questo mese Dallo 0,6 All'1,1% Ma sono sempre Percentuali basse Come si capisce Dai numeri L'inflazione di fondo Cioè quella Al netto Dei beni energetici E alimentari Freschi È all'1,8% Sono dati Positivissimi Questi Però qual è il problema? Che questa inflazione Così bassa Ottima adesso È un'inflazione Che si aggiunge A tutto L'aumento Dei prezzi Che c'è stato Per effetto Di un'inflazione Galoppante E quella Non si recupera Quindi oggi I consumatori Si trovano A avere prezzi Elevati Non più Perché l'inflazione Cresce In modo Concomitante E preoccupante L'inflazione Va bene Oggi Ma risente Del fatto Che i prezzi Sono aumentati E non tornano indietro Da qui la difficoltà I beni di consumo Sono i beni A cui Corrisponde La domanda È più semplice E quindi è più semplice Per quei beni Che l'aumento Di prezzo Sia maggiore Ecco perché Il caderno De la spesa È un po' aumentato Però ripeto Le percentuali Di aumento Sono assolutamente Buone Il problema È che I prezzi Sono aumentati Moltissimo Salari E stipendi E pensioni Non sono aumentati Allo stesso modo Direi per niente E che da lì Vengono fuori problemi Anche perché Professor Fortuna Mi fa rabbia Le devo dire la verità Perché non è un problema Che noi registriamo oggi Quello degli stipendi E delle pensioni C'abbiamo stipendi In Italia Che sono bloccati Da decenni e decenni Per cui Qualche cosa Anche rispetto Agli altri paesi europei C'è da scardinare Un meccanismo Di questo tipo Cioè Per il resto Non al palo Certo Siamo indietro Perché Forse Abbiamo dormito Troppo Nel corso Degli ultimi anni Ma le nostre Retribuzioni Sono cresciute Molto meno Rispetto ad altri Paesi dell'Ocse E non hanno coperto Quel differenziale Che si è creato In termini di potere D'acquisto A causa Dell'elevato Prezzo Che molti beni Hanno raggiunto Questo è il vero problema Stanno crescendo In questi primi mesi Del 2024 Anche per effetto Di nuovi contrattuali Stanno un po' Crescendo Ma sono sufficienti A colmare L'aumento Dei prezzi Che c'è adesso Non è che crescono Del 10% E ci consentono Di recuperare Sui prezzi Che purtroppo Oggi abbiamo Per effetto Dell'inflazione Che era esplosa Nel novembre 2022 Durata Un anno A livelli Con lei Speriamo Speriamo che La legge Di bilancio Che si profila Difficile Utilizzano tutti Questo aggettivo Difficile Complessa Lei la deve smettere Di anticiparmi Io sono stanca Sono stanca Perché io Già le volevo Parlare della manovra È già andato Sulla manovra Lei mi legge Nel pensiero Professor Fortuna Mettiamoci d'accordo Perché la manovra Allora È tutta in divenire Spieghiamolo Perché ovviamente C'è tutto un discorso Parlamentare Che deve essere ancora Affrontato Ma in che direzione Stiamo andando Ma intanto Quest'anno C'è la novità assoluta Del cosiddetto Piano strutturale Di bilancio Che è un documento Che Ha sostituito La nota Di aggiornamento Al DEF E sostituirà Probabilmente In modo completo Anche il DEF Il documento Di economia e finanza È un nuovo documento Che avrà durata Quinquennale E traccia La traiettoria Della spesa pubblica E al tempo stesso Anche Prevede Un piano di rientro Dal deficit eccessivo Perché noi abbiamo Una procedura Di infrazione Per deficit eccessivo Nell'ambito Dei prossimi Sette anni Quindi è un piano All'interno Del quale Poi Si collocano Le manovre annuali La manovra Quest'anno È difficile Come sempre Negli ultimi anni Non è una novità Ma è ancora più difficile Perché deve installarsi In questo nuovo documento Col quale dobbiamo Anche prendere confidenza Qual è il problema? Il solito Le risorse Dove possiamo Prendere le risorse? Ma intanto Noi dovremmo fare Finalmente Un po' Di spending review Cioè Un po' Di risparmio Di spesa Lo diciamo sempre Ma ci riusciamo Molto poco Le entrate Tributarie Sono cresciute Nei primi sette mesi Di 19,2 miliardi Rispetto All'anno precedente Questa è una buona Notizia Che però Non incide In modo totale Sulle risorse Disponibili In manovra Poi Possiamo tagliare Alcune delle agevolazioni Sono 626 Le cosiddette Tax expenditures Che Sono presenti Oggi E che vanno Un po' sfoltite Soprattutto Con un criterio Di togliere Quelle Che riguardano Coloro Che hanno La possibilità Di pagare E invece Stando attenti A mantenere Le agevolazioni Per le fasce Meno abbienti Allora Professor Fortuna Devo salutarla Mi dice una cosa Veloce 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 Sul Stellantis Che taglia le stime Crolla in borsa Bruciati 40 miliardi In 6 mesi Ma proprio Rapido Rapido Perché siamo Sui titoli di coda Ieri è crollata Le 14.72 Risente Della crisi Del settore auto Dell'elevato costo Delle macchine elettriche Non ci siamo attrezzati In Europa E la Cina Ha preso il sopravvento Magari la prossima volta Approfondiremo Questo tema Sperando che Stellantis Nonostante le previsioni Pessimistiche Possa riprendersi E' suonata la campanella La lezione di economia Con il professor Fortuna E' finita Ci rivediamo Alla prossima lezione Professore Grazie Come sempre Per la sua preziosa presenza Ci vediamo invece Alle 12 Con gli amici Che ci seguono da casa L'appuntamento E' proprio per le 12 Qui in diretta nazionale Su Netflix A dopo Amelia Aria Amelia Puri Aria Aria